Sono stati presentati al Ministero della Salute i risultati ottenuti negli ultimi tre anni dai ricercatori della rete Airhals Onlus, associazione italiana ricerca Alzheimer, grazie al contributo di 75 assegni di ricerca annuali da parte di Coop. Airhals Onlus è l'unica associazione che promuove e sostiene a livello nazionale la ricerca medico-scientifica sulla malattia dell'Alzheimer e altre forme di demenza attraverso opere di sensibilizzazione e raccolta fondi. In Italia non esisteva un'associazione che avesse come unico scopo quello di occuparsi di finanziare la ricerca nella malattia dell'Alzheimer e per questo è nata Airhals che ha due soli obiettivi nel suo statuto, finanziare la ricerca e sensibilizzare l'opinione pubblica a questo problema di salute è così importante e grave, spesso non adeguatamente considerato. L'investimento ha prodotto 110 pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche internazionali per progetti che hanno prodotto risultati nell'ambito della diagnosi precoce, dell'identificazione di nuovi bersagli terapeutici, dello stile di vita e della prevenzione. Airhals ha finanziato 25 borse di studio e ha prodotto fino ad oggi più di 110 pubblicazioni sulle riviste internazionali impattate e abbiamo osservato un aumento delle pubblicazioni nell'ultimo anno sui temi prevalenti che sono prevenzione della malattia di Alzheimer, diagnosi della malattia di Alzheimer, meccanismi di base della malattia di Alzheimer ed eventualmente trattamenti. Per il 2020 Airhals Onlus ha stanziato un budget di 300.000 euro per finanziare progetti di eccellenza e proseguire la ricerca sull'Alzheimer in centri di ricerca situati in Italia. Per informazioni www.airhals.it Oggi io sono qua per annunciare un po' quello che la nostra associazione vuol fare nel futuro e nel prossimo anno appunto lanciamo adesso questo bando per progetti sempre di giovani. Quindi noi continuiamo a sostenere i giovani facendo un passo avanti, cioè adesso sosteniamo anche le loro idee, non solo il loro assegno.